L'ufficio del piano regolatore ci sarà? Si, subito. Penso che entro il mese di giugno, allora l'11 giugno ci sarà la prima riunione con il sindaco per il piano regolatore, per cui credo che massimo entro i primi dieci giorni di luglio partiremo con i primi atti, probabilmente avremo dapprima una variante di salvaguardia e poi si farà il piano regolatore che spero di chiudere entro il 2014. Propersi sarà della squadra? Propersi lo inviterò a giocare un ruolo decisivo, il suo sapere, le sue conoscenze, il suo prestigio non va assolutamente perso, sarebbe da matti.